Mia nonna diceva ogni mollica fa la pagnotta, cioè penso che ogni iniziativa che va verso la direzione di un'integrazione e di farci sentire uguali tutti, vada verso la giusta direzione. Presentato a Palazzo di Città il progetto Malica, sportello di prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale, identità di genere, due i centri servizi operativi ad Avellino e Chiusano San Domenico. Insieme ai due sindaci, Festa e De Angelis e a diverse associazioni, presente anche l'ex parlamentare attivista LGBT Vladimir Luxuria. Lo sportello, che offre tutela e sostegno, porta il nome di Malica, la 22enne di Castelfiorentino, cacciata di casa dai genitori perché omosessuale. Per Luxuria, testimonia all'eccezione, Irpina d'adozione, sempre in prima linea nella difesa dei diritti, chi discrimina vuole confinarci nella solitudine e nell'isolamento. Per dire di no alla solitudine, perché chi discrimina vuole condannare chi è discriminato alla solitudine. Allora io penso che chi sta vivendo un momento di difficoltà e sente di essere al chiuso, dentro i confini dettati da qualcuno che vorrebbe confinarci all'isolamento, alla tristezza, alla depressione, al suicidio. Bisogna avere uno sportello che per noi diventa una finestra, una finestra chiariegia, una finestra che porta luce, una finestra che ci apre verso il mondo, verso l'integrazione. Nessuno, nessuna, si deve sentire discriminato per nessun motivo, per una conformazione fisica, per il colore della pelle, per l'orientamento religioso e neanche per l'orientamento sessuale, identità di genere. Purtroppo ci sono delle persone che pensano di essere superiori a un altro, semplicemente perché sono o bianchi o etero. E quindi sono loro che pensano di decidere quali diritti possiamo avere e quali no. O peggio ancora, possono essere loro a decidere se escluderti.